Qui vi presentiamo le 5 migliori catene antifurto per bicicletta. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Lucchetto Bici, Rixo Catena Bicicletta. Questa catena bloccabile è rivestita con un manicotto in materiale adattabile per garantire la massima difesa della vernice della bici. Facile da chiudere e aprire, il lucchetto viene attivato con un codice numerico a 5 cifre, senza un segreto. È estremamente utile non solo per le biciclette, ma anche per la salvaguardia di utensili di ogni tipo e anche per la chiusura di cancelli e recinzioni. Passando al numero 4. Il bic e lucchetto pieghevole portabile da bici. Perfetto per coloro che non desiderano slittino su catene pesanti e ingombrate. Questa serratura pieghevole si rompe comodamente alla struttura della bici. La catena è antitarsi ed è fornita anche completa di segreto. L'apertura e anche la chiusura sono di base, per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Sigetuna Lucchetto AU, robusta 16 mm antifurto ad arco. Il blocco è creato con un doppio dispositivo di bullone che protegge entrambi i lati alla traversa. Ciò garantisce un'elevata tenacità alla trazione. C'è inoltre un televisore via cavo a annodato flessibile da 1,2 metri per una sicurezza inclusa o per fissare più biciclette tra loro. Almostat è top of our list at number 2. Lucchetto per bicicletta sicurezza antifurto per bicicletta lucchetto a catena. Facile e comodo da slittino. È un mix affidabile di serratura e anche catena realizzata con resistenza ottimale. Questa è una catena quadrata da 8 mm con copertura tessile resistente alle intemperie per proteggere il telaio dal pericolo di danni alla vernice. La catena, il corpo della serratura e gli elementi di supporto del sistema di bloccaggio sono costruiti in acciaio solidificato e la struttura di fissaggio non genera anche sotto feroce stress. Tre chiavi sono incluse nel pacchetto se uno è perso, ce ne sono costantemente due rimasti. La catena ha a che fare con 106 cm di lunghezza, i collegamenti hanno a che fare con 4 cm di lunghezza e circa 6 mm di spessore. E infine il numero 1 della nostra lista. Avos, antifurto bicicletta Steelo Shine Even, 8210. Si tratta di una forte catena di collegamento quadrata da 8 mm, che è coperta da un innovativo strato di elastomero sintetico soft touch. Grazie a questa opzione di stile, protegge efficacemente la vernice della bici da graffi accidentali. Inoltre, offre al tutto un tocco di classe. La catena oltre ai componenti di sicurezza della serratura è realizzata in acciaio speciale e temprato. Ha una lunghezza di 110 cm, per consentire di collegare facilmente le due ruote. Il suo peso è di 2,2 kg maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.